A Manuele, a Chiara, due parole sui risultati di questo primo anno di osservatorio, non prima di aver ringraziato velocemente chi con me è stato protagonista dell'attività di monitoraggio e di accompagnamento delle scuole. Faccio riferimento in modo particolare al professor Pierpaolo Limone, qui presente, dirige il laboratorio ERID dell'Università di Foggia, è stato lui l'iniziatore del progetto sul versante dell'osservatorio e fattivo collaboratore di tutte le nostre attività lungo quest'anno, professoressa Floriana Falcinelli dell'Università di Perugia e i ricercatori che sono stati i veri protagonisti sul campo della ricerca, mi piace ricordare almeno Simona Ferrari, Alessandro Carenzio e Rosaria Pace. In due parole i risultati di questo primo anno di osservatorio. Primo dato che vorrei sottolineare, è questo un campo, quello dell'innovazione con i media digitali nella scuola dove si producono tanti discorsi. Spesso dietro a questi discorsi non c'è la ricerca. Nostro vanto è di avere provato a fare ricerca presentando delle evidenze, presentando dei dati, producendoci sopra riflessione. A partire da queste evidenze, a partire da questi dati, di che cosa ci siamo accorti? Almeno di tre questioni che mi sembrano quelle più interessanti da suggerirvi. Prima questione, il progetto è stato l'occasione per costruire un'alleanza interessantissima tra l'università, l'impresa e la ricerca. Noi viviamo in un paese in cui la scuola di solito ha molta diffidenza nei confronti dell'azienda. Sospetta sempre che dietro alle ragioni del marketing ci siano ragioni utilitaristiche di uso basso della scuola. La ricerca per parte sua, la ricerca universitaria in modo particolare, è considerata spesso astratta e lontana, sia dalla scuola che dall'impresa. Credo che il primo risultato maturo di Smart Future sia stato quest'anno la possibilità di creare una serie di relazioni veramente virtuose che sono state di profitto sia per noi dell'università che per le scuole che abbiamo accompagnato, credo anche per gli amici di Samsung. Seconda idea, la tecnologia abbiamo visto nella nostra ricerca ha funzionato da organizzatore professionale per le attività degli insegnanti in scuola. Che cosa voglio dire quando suggerisco che la tecnologia possa essere un organizzatore professionale? Voglio dire che la tecnologia introdotta e assunta con serietà nella scuola diventa un'occasione per la scuola stessa di ripensarsi e per gli insegnanti di tornare riflessivamente sulle loro pratiche. Quali? Quelle più importanti? La progettazione, la capacità di fare lezione, di costruire comunicazione in classe, la capacità di valutare. Diciamo così, abbiamo utilizzato le potenzialità della tecnologia Samsung per costringere dirigenti e insegnanti a tornare sulle loro pratiche modificandole. Il risultato mi sembra un piccolo laboratorio dell'innovazione e il libro ne rende ampiamente conto. Terza idea che vorrei comunicare, che anche è un risultato importante della ricerca, questo primo anno di monitoraggio ha stressato la tecnologia per verificare se potesse essere volano di inclusione e la risposta è sicuramente affermativa. Inclusione a che livello? Almeno in tre direzioni. Inclusione sul piano di alunni con abilità diverse o con disturbi specifici di apprendimento. Può la tecnologia favorire l'inclusione di questi alunni? La risposta è sì, la ricerca ci ha consentito di verificarlo. Secondo significato dell'inclusione ha a che fare con il territorio. Nel nostro campione di scuola e dentro il pilota che ha partecipato alla sperimentazione c'erano scuole di montagna, c'erano scuole che hanno piccoli plessi dentro i quali opera una pluriclasse con le cinque classi della scuola primaria tutte in un'unica classe. Inclusione rispetto al territorio significa che la tecnologia riesce ad abbattere le distanze e a far lavorare questi bambini paradossalmente, insospettabilmente, addirittura meglio di quei bambini che si trovano invece in condizioni considerate normali. E il terzo livello dell'inclusione ha a che fare con il grosso tema dell'accesso. Soprattutto in alcune scuole di frontiera che operano in territori particolari, con delle realtà di disagio particolarmente significative, è il caso della scuola di Via Cima verso la quale ci stiamo arriccando, ci sono bambini in scuola le cui famiglie non possono garantire tutte le opportunità che agli altri bambini sono garantite. Trovare in una scuola di frontiera un laboratorio che porta in scuola la tecnologia più avanzata, trovare degli insegnanti capaci di far lavorare con metodologie innovative significa garantire a questi bambini e alle loro famiglie accesso. È un terzo livello, è un terzo significato dell'inclusione che mi piace sottolineare. Queste mi sembra possano essere le tre evidenze principali che dall'attività di ricerca di quest'anno sono emerse. Quindi io qui mi fermerei anche perché mi sembra di capire che siamo alla prima tappa e ci accingiamo ad accogliere o la dirigente o l'insegnante che abbiamo chiesto di essere con noi, la dirigente. Grazie a tutti e buona prosecuzione.